è scattata l'ora solare signore e signori bentrovati ancora una volta insomma voglio dire abbiamo tanto da raccontarvi e tanto da dirvi voi ve lo ricordate re artù quando ancora non sa di essere re artù si avvicina la roccia e tira fuori la spada vi ricordate zorro vi ricordate i tre moschettieri voi vi ricordate quanto avete fatto il tifo alle olimpiadi di monaco 72 giusto per citare quelle olimpiadi perché poi una campionessa di nuoto e campionessa di nuoto ovunque con tanti di quei titoli che non bastano mille pagine e allora il re e la regina renzo musumeci greco e novella caligaris e se con il maestro musumeci greco come dire l'ora solare ha una antica affezione insomma gli vogliamo un mondo di bene questo è oggi abbiamo in studio lei la la novella caligaris che io mi astengo dal prendere in braccio perché non sarebbe carino ma vorrei farlo da quel 1972 oltre ben arrivata grazie di essere di essere con noi allora titoli vinti mi permette ovviamente titoli vinti quanti quanti sono sì no io ricordo soprattutto record del mondo e 22 record europei quelli italiani credo siano 86 incredibile con un eleganza incredibile e sapete poi vi raccontiamo perché siamo siano qui insieme chiaramente perché voglio dire è questo amore per quei due che non lo sapessero re renzo 145 anni di storia l'accademia di anni musumeci greco non fare la battuta io avevo 145 anni no i più grandi attori attrici i più grande cinema i più teatro la più grande scherma passa da casa tua casa museo e accademia d'armi musumeci greco esiste da tanto dal 1878 molto prima che i fratelli lumiere inventassero il cinema ma c'era già teatro siete arrivati voi è molto molto prima a proposito di cinema oggi faremo una puntata molto molto cinematografica molto teatrale molto bella l'amore è una cosa meravigliosa e quando scatta tra due persone meravigliose come renzo e come novella noi siamo tutti più contenti perché le persone innamorate sono stupende come come si conquista una campionessa come novella caligaris con tanta pazienza perché io non gli ho dato retta all'inizio non hai ceduto al fascio no no di d'artagnana i primi giorni no no i primi mesi i primi mesi i primi mesi i primi mesi sì sì perché e poi piano piano avevo informazioni di lui pessime perché era un don giovanni acclamato no ma un uomo corretto no eh sì sì così tanto è vero che mio figlio mi disse stai attenta in guardia ti ha detto no sì in guardia non è affidabile adesso scusate maestro no e a questo punto di vista contesto tutto poi piano piano dopo un anno comunque dopo un anno scusate lei parla settimane mesi non è vero giorni proprio questione di giorni se mettiamo insieme i giorni fanno poche ore mi piace dire questo ma non è così e poi però dopo un anno siamo andati a vivere insieme quindi ecco voglio dire che siamo a otto anni e siete a otto anni che sono superato il settimo no non solo che se girate otto fa l'infinito ed è questo che noi vi auguriamo che sappiamo che sarà allora nella vostra nella vostra meravigliosa casa che è una casa molto singolare e molto particolare vengo a prenderti stasera con la mia torpedo blu invece tu che cosa hai detto a novella Caligaris? una cosa che non ho ancora fatto niente niente perché hai una bianchina dentro casa brava maestro è una delle prime promesse otto anni fa è dice appena possibile andiamo a fare il giro con la bianchina o una bianchina spider dentro casa del 1965 rosa scuro che conosci e non è ancora uscita di casa non è ancora uscita per vari motivi contrattempi vari in otto sette anni insomma ci sono stati anche dei contrattempi però novella Caligaris che con i secondi e i minuti ha molto a che spartire attenzione novella Caligaris eccellente giornalista e firma di Rai News novella Caligaris che è novella Caligaris che ha una carriera bella splendida che prosegue continua grazie però con quei contasecondi e contaminuti quella è ormai vedi anche ancora anche nel giornalismo c'hai sempre il cronometro davanti è una condanna la mia non è una condanna è una meraviglia allora un uomo innamorato che cosa fa? posso già farlo vedere un uomo innamorato fa questo cioè costruisce un ecco favorisco per il nostro regista il nostro Enzo Pirrone costruisce questo album questa faccina che vedete è lei lei che ci ha buttati tutti in piscina novella Caligaris tutti in piscina perché è stata ed è la nostra campionessa la campionessa di quel tempo e da quel tempo in poi che ha dimostrato ai bambini ai ragazzini che si potesse fare no? quello quello scricciolo che ciccio in corno ce l'ha fatta sì forse è fatto proprio che io fossi come dire la ragazza la porta accanto ha fatto sì che le persone potessero avvicinarsi un po' a tutti gli sport a tutti gli sport però a vedere questo questo io dico musetto perché era proprio il suo faccino quanti anni quanti anni avevi? io a Monaco avevo 17 anni e sembravi di 13 a 13 ho fatto la prima olimpiade però non avevo capito che cosa fosse ecco va bene insomma questo questo è stato fatto sì ma erano delle cose di Mauro questo direi che compensa completamente la bianchina che ancora non è uscita perché l'ha fatto il suo innamorato questo è un anno di lavoro di raccolta un po' di articoli li aveva lei a casa e li ho sottratti un po' li ho cercati li aveva raccolti mio fratello una parte una parte li ho cercati li ho comprati un anno di ricerca una una bravissima archivista professionista perché è difficilissimo creare una cosa del genere ha realizzato il tutto ci abbiamo messo circa un anno allora io chiudo e attenzione ecco qua ci abbiamo messo circa un anno stiamo insieme da otto anni ma quanto sono belli quanto ha contribuito Novella per rendere più come dire più ancora più bella questa casa no? perché lei dice che quando è entrata per dire una parola giusta no? quello che dice lei era una specie di tipo caserma proprio da uomo un po' piena di cose ma un po' che formano tutti i tuoi amici perché quella è la casa dove tutti i fortunati vanno a vedere i film dove il maestro ha preparato gli attori però era veramente no? scherma lei dice che era fatta apposta per attrarre le ipotetiche donne fidanzate dice lei ma non è vero è una casa fatta diciamo un po' immagine della sala di scherma certamente che è quella al panteo che tu ben conosci quindi è una sala di scherma adattata a casa che ha tutte le caratteristiche di una sala di scherma però ragazzi questo sorriso e questa foto che io prego il nostro Enzo Pirrone di far vedere ecco ha portato eccola qui dove passa questa ragazza precisa puntuale però arriva anche la grazia dico bene Novella? si diciamo che ha ingentilito la casa nel senso che l'ho resa casa e guardate come l'ha detto e l'ho resa casa e in questa casa da questa casa hanno portato questo che è un megafono signori questo megafono porta la scritta Ben Hur 1958 ecco qua musumeci perché? perché sì perché noi ai musumeci greco dobbiamo così tanto tra un istante all'ora solare non lo uso non lo tocco poi ti spiego poi lo spiego l'amore è una cosa meravigliosa è l'amore tra novella Calligaris la regina la regina del nuoto e il maestro Renzo Musumeci greco il re della spada di carta e spada è veramente una cosa bellissima bellissima siamo vedi che grazia infinita allora va bene insieme da otto anni per i prossimi ottanta e quindi basta di un giorno uno zero più o meno ed è cosa fatta la storia della scherma che si intreccia perché voi siete due come posso dire difensori della bellezza dello sport ma la storia della scherma vorrei ripartire da questo da questo Ben Hur perché tu eri piccolo piccolo quando il tuo papà ero piccolissimo e la colpa di questo megafono il mio diciamo chiamiamola malattia dello spettacolo del teatro del cinema è colpa di questo perché io nel 58 molto molto piccolo molto piccolino però camminavo già sei anni io andavo a Cinecittà con mio padre perché lì giravano ben ma ti rendi conto la battaglia navale di Ben Hur molti non lo sanno ti ricordi quando Cialtono è stato incatenato che rema mare in tempesta quella è la piscina di Cinecittà era la piscina di Cinecittà era no c'è ancora dietro al teatro 5 quello di Fellini c'è ancora c'è ancora questa è la magia dell'epoca dove non c'era digitale si doveva fare tutto dal vero tutto dal vero quindi c'erano questi due galeoni questi che remavano mare in tempesta con dei ventoloni che giravano e creavano il mare con piglio cielo dipinto scuro per temporali e io quando mio padre mi chiamava io gli portavo il megafono e lui da bordo piscina diceva attaccare saltare sulla nave perché era ovviamente maestro di scena non erano solo due noi facciamo queste scene praticamente siamo i registi di quella scena cioè d'accordo con il regista creiamo la scena il regista gliela spieghiamo a lui piace e poi siamo noi a dare tutti i tempi e i comandi questo magnifico signore che vedete in foto è il papà di Renzo Musumeci Greco che gli ha insegnato tra le altre cose oltre ad una signorilità difficilmente rintracciabile altrove questo lo dico da amica e posso dirlo dopo tanti anni il fatto che non esista un duello che non abbia una regia proprio dei colpi che devono essere dati cioè niente 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 può andare al caso giusto? diciamo che nel 90% dei casi è cioè dovrebbe essere così nel 100% dei casi certe volte per motivi magari di risparmi eccetera si arronza un po' non con noi per cui accadono possono accadere degli piccoli incidenti piccoli o grandi che siano perché per fare un duello importante e ti faccio un esempio fammi vedere questa è la striscia si chiama così la riproduzione esatta della spada del 600 quindi parliamo di moschettieri parliamo di Cyrano e soprattutto parliamo di Caravaggio il tuo Caravaggio con Alessio Boni esattamente e questa è proprio quella che vedete ha tutti i segni per preparare quel duello molto lungo molto violento quasi un piano sequenza senza maschera abbiamo impiegato tre mesi tre mesi di preparazione tutti i giorni ti ricordi con Alessio e Maurizio Donadoni lo ricordo perché i colpi sai basta un colpo questa è pesante pesa pesa grazie maestro basta un colpo pesa pesa un accidente pesa dovete credere sulla parola infatti Alessio mi accusa di aver fatto poi sei mesi di fisioterapia dopo dice ma per l'arte cosa non si fa ma non è vero tu capisci che i colpi tirati con due mani con notevole violenza se quell'altro non azzecca la parata giusta non sa esattamente cosa fare questo è senso no è tutto a memoria quindi se io tiro un colpo alla testa se Caravaggio dirà un colpo alla testa se l'altro non fa la parata giusta che questa è la quinta per gli schermitori si se la prende in testa e va all'ospedale e il film si ferma e il film si ferma a notare con tale allora mi veniva da sorridere pensando che la prima cosa che abbia visto il piccolo Lorenzo Musumeci greco in fondo sia stata una piscina a Cinecittà chissà se era scritto nelle stelle e nel destino altrettanta precisione novella io dovrei farti milioni di domande perché la tua è una storia la tua è una storia da un punto di vista di atleta brevissima perché tu a 20 anni a 19 a 19 anni tu chiudi sì ma accidenti per quei 19 anni che poi sono stati presumo dai 13 in poi tu sei stata precisa come in un duello di teatro o di cinema cioè tu non hai mai perso un colpo ho anche no io ho perso molti colpi ma io ho avuto un grandissimo allenatore che era oltre che un allenatore io dico che era un filosofo dello sport che voleva prima creare diceva io mi allenavo con la squadra maschile perché lui era era lui che mi aveva scoperto e poi indirizzata allo sport e Bubi Dennerlein è stato io dico anche che i successi di oggi vengono da lontano vengono da quella scuola che Bubi creò facendo capire che il mestiere di allenatore non era quello che si metteva a bordo vasca con un cronometro e faceva ai ragazzi andare avanti indietro ha creato prima di tutto ha insegnato a studiare e poi dal punto di vista dal punto di vista anche psicologico lui ha fatto tantissimo e ha portato ha fatto capire che gli allenamenti non erano per tutti uguali ma a seconda del soggetto dovevano essere adattati tu eri un bel soggetto però tu considera che quando mi ha fatto fare gli 800 stili libero la nostra società era molto forte io poi sono stata molto fortunata perché avevo una famiglia che si poteva permettere all'epoca ti dovevi permettere di fare sport e poi essendo di origine teutonica insomma a Mittolo Europa anche se erano nati a Trieste Trieste comunque è una città Mittolo Europea su un altro dal punto di vista di mentalità e di struttura architettonica lo sport era una forma di educazione e questo era e quindi l'ho fatto ho iniziato lo sport sin da bambina da piccolissima seguendo mio fratello che io facevo tutto quello faceva mio fratello Mauro e Bubi c'erano le baccheche dove mettevano le convocazioni e io vidi per me la convocazione di fare gli 800 stile libero io siccome ero abbastanza pestifera andai da lui sfrontatissima dice scusi ma io perché devo fare gli 800 stile libero lui sei la Galligaris no come ha risposto no perché io ero la più schiappa di tutti quanti in quel periodo e lui mi guardò senza neanche darmi troppa soddisfazione mi dice perché così stai 12 minuti zitta ma questo è meraviglioso dicevano che io dicevano che io potevo insegnare a parlare ai pesci e questo è parzialmente vero insomma nel senso che grazie a te però tanti lo ribadisco ancora una volta tanti sono diventati pesciolini poi magari siamo stati semplicemente a galla magari abbiamo uno stile per il quale la Galligaris preferirebbe come dire mettersi un sacchetto di carta in testa per non guardarci mentre nuotiamo però tu sei stata tu grazie al tuo allenatore sei stata trascinante 12 minuti zitta 12 minuti zitta mi viene in mente a quante vite possono essere state salvate ma certo perché centinaia di migliaia di persone hanno cominciato a fare il nuoto e quindi e se c'era qualcuno da salvare nuotavano certo no ma soprattutto io dico che insegnare a nuotare un bambino è la prima assicurazione che si possa fare sulla sua vita e questo non è un fatto poi lo sport è una scelta l'agonismo è una scelta e invito a tutti i genitori a non incitare il bambino a dover per forza fare l'agonismo questo o quello sport ma farlo scegliere perché lo sport deve essere gioia deve essere divertimento se non ti diverti non tu sei divertita io mi sono divertita fino a quando mi sono divertita ho continuato quando non mi sono divertita più ho smesso allora Renzo doveri quando aspetta un attimo mi viene in mente da quello che dice lei lei parla di un'assicurazione sulla vita e il nuoto e un'altra analogia abbiamo perché cento anni fa centocinquanta anni fa l'assicurazione sulla vita era questa quando tu potevi essere sfidato a duello e quindi dovevi saperti difendere o potevi essere aggredito era un'arma di difesa meglio nuotare un'altra analogia di altri termini lì sotto ha fatto meglio nuotare però l'ha detto il maestro il maestro ha detto una cosa così e non è molto elegante è molto meglio nuotare l'analogia in centocinquanta anni sì no no per carità ma io se le ho in tutto ciò tu Renzo nuoti bene? no scusate perché andiamo no io mi bagno diciamo che mi bagno quando andiamo al mare lei insomma andiamo a Ischia lei fa quasi il giro dell'isola ma è la Caligaris lei si perde per ore non la troviamo più sì no lui mi perde spesso non la troviamo più sei tu che corri in acqua scusami no ma io vado lungo lungo costa perché ho sempre paura dei motoscafi e scendo dalla barca e vado lungo costa quindi basta andare lungo costa e mi ritrovi una volta non mi ritrovavano più l'abbiamo inseguita noi pensavamo al riconoscimento della salma perché no non la trovavate più dopo due tre ore ma questa come è possibile e questa nuotava nuotava no poi avevo trovato una barca dei signori che mi avevano visto continuare a nuotare e ho detto signora ma la sali dico no no guardi non c'è problema no guardi l'abbiamo riconosciuta dico sì sì grazie però dico preferisco continuare tanto prima o poi e dico non mi ritrovavo più con le baie e ho chiesto perché aveva fatto il giro dell'isola e poi loro carini mi hanno seguito a un certo punto ho detto signora salga a bordo andiamo a cercare ma quelli che si rivendono la barca con la targa qui è salita novella Calligani capisci e poi li ho trovati con il nostro cane Bosti che stava in cima che guardava dappertutto ma in tutto questo devo fare la domanda la controdomanda novella tira di scherma? lui mi ha messo in pedana però mi ha messo in pedana perché diceva che così potevano iniziare anche tante signore e quindi incrementare la sua scuola e c'erano dei piccoli duelli va bene io ovviamente cercavo di dare il massimo di me sai comunque chi fa sport ha un'intelligenza motoria molto sviluppata lui a un certo punto viene da me e mi dice senti ma falle vincere se no non si iscrivano dico guardi è sbagliato soggetto fatti tu maestro però falle vincere lo puoi dire la prossima volta la faccio tirare con super campionese non è detto non è detto è pur sempre è sempre la Calligani se mi fa tirare con le super campionese è ovvio che perdo però non è che do la vittoria così non è che gliela regalo si accetta lo scommesso invece la scommessa è sicuramente vinta la scommessa è sicuramente vinta da questa coppia riduce qualche io dico sempre qualche giorno fa qualche tempo fa ci sono degli appuntamenti che ormai sono imperdibili e non sono soltanto appuntamenti romani in luoghi meravigliosi di Roma perché la scherma e lo sport che voi portate avanti e tra un istante torniamo al nuoto e allo sport in generale la tua scherma maestro prima e ancor più avendo incontrato novella è diventata scherma per tutti ne sono stata testimone diretta no? beh noi abbiamo vari aspetti noi abbracciamo la scherma a 360 gradi quindi dello spettacolo abbiamo parlato ne stiamo parlando attività agonistica ma soprattutto il nostro fiori all'occhiello è il progetto Scherma Senza Limiti sì per il quale siamo aiutati dalla fondazione Terzo Pilastro Internazionale è un progetto molto costoso e il presidente Emanuele Emanuele è un ex schermitore e conosce i benefici della scherma quindi noi offriamo da dieci anni e più da Piazza Capranico 2011 che ti ricordi lezioni di scherma gratis a disabili e parliamo sia di disabili in carrozzina ai cosiddetti paralimpici infatti nelle ultime due olimpiadi avevamo due atleti uno ha sfiorato il podio e attualmente il nostro più forte paralimpico è il numero uno del mondo nella classifica mondiale ma non è finita non è finita perché poi non dobbiamo occuparci solo della scherma dell'elite di questi dobbiamo occuparci anche della massa di persone meno fortunate di noi per cui noi mandiamo nelle scuole nelle parrocchie mandiamo ogni settimana dei maestri a insegnare la scherma autistici down disturbi del comportamento mancanza di concentrazione e loro ne hanno un beneficio enorme in questo tant'è vero che gli psicologi e i tutor che li seguono i quali dicevano all'inizio guarda che loro questi ragazzi hanno una soglia dell'attenzione di pochi minuti questi un'ora si fanno un'ora di scherma continuamente e aspettano la settimana tutta la settimana per fare la lezione di scherma è la tua e vostra grande vittoria cioè essere in assoluto i numeri uno e continuare con una testardaggine che è fatta di cuore e anche di senso di responsabilità per il proprio ruolo a portare lo sport che poi è vita a tutti Novella tu sei una tu sei Novella Caligari sì io non voglio sembrarti folle ma io sono molto emozionata oggi daverti davanti a me veramente ci sono tanti campioni oggi soprattutto nel nuoto che sono molto più grandi di me che hanno fatto cose molto più importanti prima fra tutto Federica Pellegrini che ha fatto unici record del mondo ha vinto l'Olimpiadi io invece ho preso un argento e due bronzo quindi non sono paragonabile a lei ma un argento e un bronzo a quell'epoca sì qualcuno la fermi fermare la Caligari è difficile ma qualcuno la fermi sì no è chiaro che è chiaro che per fare questo bisogna avere passione devi avere passione per occuparti di sport io penso sempre che nella vita lo sport mi ha servito tantissimo soprattutto mi ha insegnato molto ritornando a Bubi quando tu dicevi tu hai sempre vinto no lui mi portò siccome vincevo troppo lui mi portò a fare tutto un tour in Germania Est per perdere poi una volta mi fece fare sette gare all'allora oltremare la piscina oltremare di Napoli perché diceva devi perdere devi imparare a perdere e io invece vinsi tutte sette le gare e feci il primo record europeo e bene scusate allora devi imparare a perdere guardate è vero è fondamentale a questo signore devono tantissimo tutti gli atleti che sono venuti dopo no perché è tutta una crescita è tutto è tutto un modo di 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 diventare veramente campioni se voi pensate che questa meraviglia di novella io dico insomma lei ha un fisico da modella tra le altre cose dove avevate trovato i costumi di licra perché i costumi i costumi regolamentari non sì no erano una licra molto speciale che si erano grandi così pescavano acqua insomma i costumi regolamentari sì anche quelli di licra che prende che erano commercializzati perché erano molto pesanti e come te li cucivano addosso no erano grandi così si stendevano addosso e poi si incollavano ma potevi usarli una volta sola mio padre li prese in in Svizzera e peraltro erano anche molto belli perché erano molto colorati e all'epoca non c'erano tutti questi colori non so erano rosa sciocchin e verde smeraldo insieme piuttosto che rosa sciocchin erano quasi un po' come dire un po' un po' un po' un po' un po' un po' colori allora io tenevo queste me le prese per le olimpiadi e per i mondiali poi io usavo quello nuovo per la finale quello che ho usato invece nella finale prima lo rimettevo la colla e lo rimettevo addosso per le batterie ovviamente tu stacca e riattacca immaginate sulla pelle che cosa succedeva lo dice con una grazia infinita allora sì mi scrivono di tutto la pulce gigante mi dicono sentirsi dire pulce fa piacere sì no mio padre mi chiamava pulce e quindi sì perché ero sempre lui diceva che ero piccola ma saltavo dappertutto e siamo due stai 12 minuti zitta piccola ma salto dappertutto e ha saltato anche una cosa lei ha perso un balletto di Bejar chi le ha detto questa frase uno dice che cosa ho fatto ho fatto una cosa ma ti sei perso un balletto di Bejar chi osò dire questa meravigliosa ed elegantissima frase mia madre mia madre era molto portata per l'arte per tutto ciò che significa spettacolo in particolare piaceva Bejar quindi quando io ero ai mondiali lei stava a Siracusa a vedere i balletti di Bejar e quando io la chiamai non c'erano i telefonini chiamai sai mamma ho vinto il mondiale ho fatto il record del mondo lei mi dice brava tesoro ma non sai cosa ti sei persa brava tesoro ma non sai che cosa che cosa ti sei persa eccola e insomma e questo fa parte della naturale eleganza di novella di questo maestro che quando scrive lettere io questa cosa la dico sempre Renzo Musumeci Greco c'è nei momenti più belli per i propri amici e c'è anche nei momenti più difficili dove ti arrivano delle lettere scritte con la penna stilografica che tu conserverai per tutta l'esistenza sto citando in prima persona qual è il prossimo obiettivo da scrivere sul tuo diario fatto la prossima cosa che tu sicuramente possa considerare cosa fatta visto che tu ne fai mille al minuto dici come prossimo impegno il prossimo allora intanto abbiamo finito recentemente ieri praticamente sì abbiamo finito recentemente due edizioni di affil di spada quella che tu ben conosci che una è diventata una sportiva quindi davanti al pantheon abbiamo riunito centinaia di schermitori di tutta Italia e dall'estero sono venuti e proprio per incentivare la scherma per farla conoscere proprio lo sport ma anche grandissimi campioni come Elisa Di Francisca Sandro Cuomo i numeri uno sì davvero Aspromonte Valerio Aspromonte insomma ci sono prestati tutti per lui sì sono venuti perché ci credono in questa cosa perché non è solo la scherma non deve essere solo l'agonismo la medaglia un avvelenamento una guerra una battaglia ci devono essere anche dei momenti carini piacevoli cavallereschi dove la gente veda che c'erano migliaia di persone al pantheon questa è la prima fase sportiva la seconda ve la raccontiamo tra un attimo signori restate in guardia perché sono con noi Renzo Musumeci Greco Novella Caligaris proprio loro quelli veri di attraverso Allora Allora Solare la grazia la forza la bellezza l'amore Novella Caligaris Renzo Musumeci Greco grazie 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 Allora i maestri ci stavano parlando di affiddi spada con i numeri uno italiani e del mondo devo dire italiani tantissimi ovviamente tutti medaglie d'oro c'era di tutto c'era tutte quelle medaglie che insomma hanno che vengono per amicizia perché io gli dico guarda facciamo un'esibizione di scherma per incentivarla per promuoverla perché la scherma purtroppo la vediamo quasi solamente ogni quattro anni e quindi invece la scherma va conosciuta e tu hai lavorato perché non fosse solo elitaria ma diventasse sport e continui a diventare sport per tutti molti pensano di uno sport molto caro ma è molto meno caro di tanti altri sport e l'altro l'altro aspetto questo affiddi spada è diviso in due parti e uno è un aspetto di spettacolo abbiamo finito da poco recentemente questo affiddi spada alla casa del cinema dove abbiamo fatto una rassegna di film con la cineteca nazionale il centro sperimentale di cinematografia dove io insegno e insegnava mio padre una serie di film gratuiti dove le persone potevano venire liberamente abbiamo avuto un grande successo e ci credo e invece il prossimo obiettivo e poi lascio la parola alla regina del giorno il prossimo impegno è con la festa del cinema e il 22 ottobre faccio un'altra cosa interessante nell'ambito della festa del cinema nell'accademia al Pante lo annuncio facciamo una specie di masterclass di scherma scenica cioè con dei giovani attori in una giornata spiego al pubblico come si monta un duello cinematografico appunto senza dimenticare un colpo facendo attenzione esattamente con fare matematico infatti io sempre comincio con le armi di plastica quelle che usano i bambini quando li vedo sicuri tranquilli passo a queste lentamente man mano aumenta 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 la velocità finché arriviamo al massimo e questa si chiama generosità non abbiamo parlato di Renzo Musumeci Greco che prende 15 minuti di applausi all'arena di Verona 15 minuti di applausi non abbiamo parlato di tutto il teatro di Roberto Bolle come di insomma dei più grandi eccolo qua questo è il suo spadino questo è quello che abbiamo usato in Giulietta e Romeo eccolo guardate questa è l'eleganza è così movimenti migliori allieva di spada del maestro Musumeci Greco ora non sono arrivata potrebbe diventarlo anche di fioretto perché le ho portato un fioretto così lei lo associa alla spada questa è sorpresione questa è sorpresione caramba che sorpresa commossa adesso devo pure andare avanti novella vado avanti grazie io non ho portato costumi novella non ho portato costumi anche perché ma so nuotare novella grazie a te so nuotare ma non farei mai il giro di ischia a nuoto grazie maestro che cosa prepara la regina novella calligaris per il nostro sport a breve io sono stata eletta un anno e mezzo fa presidente dell'associazione nazionale olimpici azzurri che gruppa tutti gli olimpici e tutti gli azzurri di tutti gli sport e di tutte le epoche sto cercando di dare visibilità a questa associazione soprattutto portando dei progetti che avvicinano le persone allo sport di tutte le età dai bambini agli adulti in particolare sono due bandi che abbiamo vinto da sport e salute noi siamo ente benemerito del CONI e poi un altro a cui io tengo molto che è la formazione e l'incentivazione alle donne di fare un percorso per diventare dirigenti sportivi cioè iniziando dalla base perché troppo spesso vengono catapultate dall'alto e non si presentano alle elezioni allora devono capire che invece l'associazionismo sportivo è una grande palestra per un lavoro di domani perché c'è un po' tutto c'è il budget c'è l'organizzazione c'è la logistica bisogna saperlo fare esatto per cui quando poi arrivano a livello nazionale sono conosciute all'interno estimate perché hanno visto che cosa hanno fatto nel loro percorso insomma gli 800 in 12 minuti stanno un po' zitte e studiando tantissimo sapete com'è entrata Novella Calligaris come giornalista? Le ha fatto definiamolo provino Tito Stagno facendole ripetere anzi dire lei siamo sbarcati sulla luna una stella polare come la Calligaris non poteva che iniziare così grazie di essere stati con noi siete due meraviglie maestro mi sono cidre grazie sono commossa dovrò imparare a questo punto Novella Calligaris grazie meraviglie ti hanno detto non si fa ma sotto sotto vuoi siamo come siamo l'amore cos'è il tuo paricente il più grande spettacolo dopo il divent il più grande spettacolo dopo il divent siamo noi io e te già lì